Ecco fatto Ti aiuto io Apro Ti aiuto Chiudo 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 adesso sta caricando ok 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 Ti dico io buon pomeriggio Buon pomeriggio Sì sì Pensate a un magico mondo Impossibile Dell'home entertainment Permettimi di fare luce sull'argomento Con immagini più nitide Star ancora più splendenti E azioni più coinvolgenti Dove i titoli più richiesti E i giochi interattivi Allo giorno Vanno al di là di ogni immaginazione Solo in Disney Blu-ray Darei la gomma di scorta per avere questa fortuna Un'esperienza cinematografica unica Con immagini grandiose in alta definizione E suono surround eccezionale in alta definizione Avrete sempre un posto in prima fila Menù animati che vi fanno interagire con i contenuti speciali Senza interrompere il film Fantastico Fantastico Lo strato protettivo del Blu-ray Resiste ai graffi E consente prestazioni migliori Nel corso del tempo E l'innovativa tecnologia del laser blu Offre una capienza 5 volte superiore A quella del semplice DVD Vale a dire più spazio Per fantastici contenuti E con gli attuali lettori Blu-ray Potete sempre riprodurre i vostri DVD preferiti Tu sei matto Se non lo ero ci provavo col cavolo Non è un sogno È il Blu-ray Ogni cosa sembra più bella Se il suo colore è blu È bello pure Pinocchio Ehi, che succede là tu? Vistati, ho legno inanimato È nuovo Guarda papà, guarda Questo è parlare Sono un bannino vero Bisogna festeggiare l'avvenimento Il solo Il grande Pinocchio Di tutti i pianeti nel nostro universo Uno soltanto è in grado di ospitare la vita Come la conosciamo La Terra Disney Nature Film Si è orgogliosa di presentare Una produzione BBC Greenlight Media E Discovery Channel Lo straordinario film-evento Che racconta un anno Della vita delle creature Con le quali condividiamo Il nostro pianeta Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io stampo.